come gestire l'insicurezza la vita è insicura non c'è sicurezza riguardo alla vita perché ti rivelo un segreto? per quanto giovane in salute tu sia un giorno morirai ti auguro una lunga vita ma comunque un giorno morirai è ok? no? per cui puoi morire gioioso o puoi morire piangendo dipende da te ma ad ogni modo un giorno morirai sì o no? se dici che non vuoi morire comincia a recitare oggi non voglio morire non voglio morire non voglio morire tutto quello che succederà è che non vivrai però poi morirai sì la paura non voglio morire non ti lascerà vivere ma non ti aiuterà a non morire morire comunque accettare la mortalità è una cosa molto importante se non accetti la mortalità sta vivendo in un mondo di fantasia di un mondo irreale non nel mondo reale il mondo reale è che veniamo e andiamo così tante innumerevoli persone sono venute al mondo e se ne sono andate prima di noi non è vero? voi siete siete in una scuola fondata nel 1857 mi stavo giusto chiedendo come abbiano fondato un'istituzione in quell'anno perché in quell'anno ci fu un tale tumulto in tutto il paese 1857 molti sconvolgimenti nel paese ma in qualche modo qualcuno è riuscito a fondare un'istituzione nel terreno su cui state camminando non sappiamo quante persone sono sepolte sì o no? tutte queste innumerevoli persone persone che hanno camminato su questo pianeta prima di voi e me dove sono? sono tutte diventate terra sì o no? anche questo diventerà terra un giorno a meno che i vostri amici non scelgano di seppelirvi davvero in profondità temendo che possiate tornare dal regno dei morti e ci sono stati certi episodi è successo questo c'era un'anziana coppia in Texas oltre i 75 anni il loro sogno era andare in terra santa o Gerusalemme ma a causa della loro attività e poi dei figli i figli che crescono che vanno all'università e i loro matrimoni e questo quello e quell'altro non c'erano mai riusciti superati i 75 anni di età riuscirono a partire per Gerusalemme Gerusalemme è un posto dove ogni sasso trasuda di storia così camminarono sul sentiero su cui si crede che Gesù abbia camminato visitarono quel posto dove si dice abbia camminato sulle acque e molte altre cose del genere furono travolti da tutte queste esperienze e purtroppo la Signora ebbe un attacco di cuore e morì quindi l'uomo si stava preparando a riportare il suo corpo in Texas ma poi la gente del posto si avvicinò e disse vedi Gerusalemme è la terra santa questo è il posto giusto dove morire ha fatto la cosa giusta quindi facciamo tutti i rituali qui e seppelliamola qui e ti costerà soltanto 25.000 dollari perché se la riporti in Texas solo il trasporto costa 18.000 dollari oltre alle tasse locali e in America i costi del cimitero sono molto alti quindi se consideri tutto questo spenderesti molti più soldi e soprattutto lei ha scelto di morire in terra santa questo è il luogo dove deve essere sepolta facciamolo l'uomo disse no la riporto indietro in Texas dissero vedi sei molto turbato a causa della morte di tua moglie non sei in grado di pensare lucidamente possiamo capire quindi ti faremo un super sconto 15.000 dollari sapete quello è un luogo dove si contratta il prezzo facciamolo l'uomo ci pensò e disse no la riporterò in Texas allora gli dissero vedi non ha senso posso capire che sei molto angosciato hai perso tua moglie dopo 45 anni quindi ovviamente sei molto molto angosciato non stai per niente pensando in modo lucido possiamo capirlo solo per questo sei un americano e sei del Texas quindi ti facciamo un assoluto super super sconto 10.000 dollari facciamolo dai facciamolo facciamolo per capire di cosa sto parlando se vuoi devi andare a Kashi o in qualche posto ad Aridwar in cui succedono queste cose sai allora l'uomo ci pensò e disse no la riporto in Texas e loro gettando le mani in alto dissero perché? qual è il problema? 10.000 dollari facciamolo disse vedete in Texas i morti restano morti quindi se accetti la tua mortalità sicurezza e insicurezza tutte queste cose spariranno stai vivendo quotidianamente come se tu fossi qui per sempre la consapevolezza fondamentale è che questo è mortale questo è qui solo per un tempo limitato se questo fosse la norma sai una cosa normale di cui sei cosciente della tua vita ne faresti il miglior uso di sicuro e se accetti quell'unica cosa non ci sarebbe insicurezza perché non c'è niente da guadagnare niente da perdere in questa vita sei venuto con niente qualunque diavolo di cosa stia succedendo il tuo bilancio è positivo sì o no? eh? non è così? sei arrivato con un investimento? no sei arrivato con niente quindi qualunque diavolo di cosa stia succedendo il tuo bilancio è sempre positivo non è vero? e comunque non ti permettono di prendere un container alla fine quindi tutto ciò che hai è quanto profonda, intensa e bella è la tua esperienza di vita quindi non fare troppe storie al riguardo ti stai comportando come se stessi per perdere qualcosa no non c'è niente da perdere niente da guadagnare perché tu vieni e vai tu potresti pensare oh la mia vita, la mia vita no la tua vita su questo pianeta è come un pop-up sullo schermo del computer avete visto questi pop-up? sei soltanto un pop-up e un pop-out nel frattempo ti alzerai e risplenderai? questa è l'unica domanda d'accordo? quindi se in ogni caso risplendi a volte può essere visto dalla gente a volte potresti non essere visto dalla gente ma l'importante è che tu tu stia splendendo dentro di te e questo è tutto ciò che conta se le persone hanno gli occhi per vederlo lo vedranno altrimenti non lo vedranno questo è un problema loro ma tu stai vivendo una vita intensa e profonda questo è tutto ciò che conta qui se capisci questo e se metti in atto questo nella tua vita non vi sarà insicurezza perché di sicuro c'è solo la morte sì o no? la gente continua a chiedermi viene da me e mi chiede Sadguru per favore dacci la tua benedizione che niente possa accaderci che razza di benedizione è questa? la mia benedizione è che possa accadervi di tutto tutto ciò che è vita ti deve accadere sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? per favore devi prendere una decisione adesso sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? vivere la vita tutte le diverse dimensioni di ciò che contiene questa vita devono accaderti non è così? se sei venuto per evitare la vita c'è un'oceano proprio qui puoi saltare nell'oceano vedi se vuoi evitare la vita devi morire è un modo più efficiente di fare le cose non è vero? se sei vivo e cerchi di evitare la vita diventerà qualcosa di miserabile se ti senti insicuro a quello che farai cercherai di evitare la vita quando sei vivo e cerchi di evitare la vita questo causerà immensa sofferenza quando sei vivo, vivi quando muori, muori non tornare dalla morte non tornare dalla morte non tornare dalla morte